Ciao a tutti, la scorsa volta abbiamo visto alcuni dei parametri di base di cura, le impostazioni di stampa personalizzate. Qua selezionate le impostazioni di stampa personalizzate, potete come vedete modificarle, abbiamo visto tutti questi parametri. A differenza della scorsa volta, ho aggiunto dei valori e dei parametri che mi saranno utili per rendere la stampa migliore. Questi valori si aggiungono come? Si aggiungono cliccando impostazioni, configura visibilità delle impostazioni, attendiamo un secondo e Quindi, ci tengo subito a precisare che la scorsa volta ho fatto un video sul come rendere cura in italiano. È possibile rendere cura in italiano anche dalle preferenze? Mi sono accorto che è possibile selezionare la lingua direttamente da qua. La scorsa volta ho fatto vedere come modificarla, vedete qua? Lingua, potete modificare la lingua da inglese a italiano e alcune altre lingue. La scorsa volta ho modificato direttamente il programma, sono entrato nella directory in C e ho modificato il nome di una cartella in modo che automaticamente cura venga tradotto in italiano. Ora, pian piano si aprono tutti i parametri, questi qua sono i vari parametri di stampa e diciamo che io ho configurato il mio cura sulla base di come voglio stampare i miei oggetti. Il mio consiglio è quello di seguire e di selezionare gli stessi parametri che ho selezionato anch'io. Questo vi garantirà e vi farà ottenere delle ottime stampe. Partiamo dal primo, io l'ho selezionato a altezza dello strato che era già selezionato, altezza del layer 0.1, 0.2 e via via, altezza dello strato iniziale, poi come vedete potete impostare tutte le altre larghezze ma non le selezioniamo. Scorro verso il basso e vediamo le impostazioni del guscio, cioè della parete. Ho selezionato spessore delle pareti, due le ho lasciate stare, spessore dello strato superiore, inferiore e spessore dello strato superiore. Spessore sotto degli strati inferiori, l'ho selezionato anche questo, questi strati superiori sono ripetizioni, ok? O meglio, lo spessore dello strato superiore è espresso in millimetri, invece questo è espresso in... ti chiede quanti strati superiori vuoi e anche questo. Scorriamo più in basso. Ho selezionato anche configurazione dello strato superiore barra inferiore. È la prima volta che lo sento ma andremo a vedere poi che cosa fa. Già un po' immagino, è per quello che l'ho selezionato. Poi pareti esterne, prima dico interne. È un valore che... spiegarò meglio poi, dai andiamo avanti, così riusciamo a vedere tutti i parametri che ho selezionato. È fondamentale che voi selezionate gli stessi miei parametri per seguire questo tutorial. A lungo andare potrete aggiungerne o toglierne. Eravamo arrivate a questo. Vedete che poi molte non le ho selezionate. Giunzione Z, X, Y erano già selezionati. Poi densità del riempimento. Configurazione di riempimento. Andiamo più in basso. Vedete che ce ne sono veramente tante non selezionate. Poi c'è lo spessore dello strato di riempimento, perché è possibile, credo, modificare lo spessore proprio del riempimento. Fasi di riempimento graduale. Gradualmente, per modificare la percentuale di riempimento, immagino, e il riempimento prima delle pareti, che deve essere l'opposto di quello che abbiamo visto in alto. Scorriamo in basso impostazioni sul materiale. Io, man mano che seleziono, qua, qua dentro si aggiungono i parametri. Non so se ero stato chiaro prima. Materiale, temperatura di stampa fondamentale. Temperatura di stampa dello strato iniziale. Lo strato iniziale è molto importante. A me interessa controllarlo. Scorriamo in fondo. È bene avere anche il diametro, il flusso, l'abilitazione della ritrazione, la distanza di ritrazione e la velocità di ritrazione. La scorsa volta ho spiegato cos'è la ritrazione, ma la rivedremo comunque più avanti. Dovremo per forza rincontrarla. velocità di stampa, quella base, cioè che regola tutta la stampa, velocità di riempimento, e qua cominciamo a poter lavorare sulle velocità dei vari parametri, cioè delle varie cose che compongono una stampa 3D. Ovvero riempimento e via via. Velocità di riempimento, velocità di stampa della parete, velocità di stampa della parete esterna, di quella interna, della parte superiore, inferiore e velocità di stampa del supporto. Ovviamente, se dovete fare un pezzo e basta, questi valori qua non sono fondamentali e quindi non ne vale la pena di perdere tempo per magari recuperare 5 o 10 minuti. Tuttavia, se si devono realizzare grosse tirature, è bene vedere tutti questi valori in modo da ottimizzare i tempi nel miglior modo. Poi ci sono la velocità degli spostamenti, velocità di stampa dello strato iniziale, velocità skirt o brim, accelerazione degli spostamenti qua in fondo, vedete? Scorriamo ancora, vedete che sono veramente, veramente tanti. Ho fatica anche a caricare il mio PC. Cerche di stampa è selezionato e non so cosa sia, quindi si accettano consigli su questo parametro. Ho provato a cercare anche un po' in internet, ma non ho trovato niente. A giramento, delle pareti stampate durante gli spostamenti. L'ho selezionato, nel vecchio cura non lo conoscevo. Immagino che quando la testina si sposta, non passa sopra le pareti stampate, ma ci passa vicino. Poi, Z-Hop durante la ritrazione. Lo Z-Hop è un comando che fa alzare la testina quando c'è la ritrazione. Ho selezionato anche altezza Z-Hop. Di raffreddamento, abilitiamo le ventole di raffreddamento e regoliamo la velocità. Nel vecchio cura avevo anche la velocità regolare ventola, velocità massima, le selezionerei, vediamo cosa sono. E basta, andiamo avanti. Supporti, possibilità di abilitare o no il supporto. Estrusione, supporto, posizionamento del supporto, angolo di sbalzo del supporto, configurazione del supporto, fondamentale, densità del supporto e distanza Z, X e Y. Distanza da cui ho messo il supporto dall'oggetto, ovviamente. Scorriamo, scorriamo, pian piano si fanno sempre meno frequenti i parametri che ho selezionato. Densità, interfaccia, supporto. Supporto finito, una piccola cosa che mi viene a dire su supporto è che mi hanno detto che in questo cura della nuova versione, se ho un supporto e ci clicco sopra posso eliminarlo. Dopo proveremo a farlo. Adesione del piano di stampa, tipo di adesione del piano di stampa da selezionare, estrusione, adesione piano di stampa da selezionare, numero di linee skirt da selezionare, larghezza brimsi, numero di linee del brimsi, brim solo sull'esterno. Non l'ho mai usato ma vorrei provarlo, cioè mi è capitato in qualche stampa di non volerlo mettere dentro perché mi creava problemi su delle incisioni che facevo sul lato inferiore. Mi inseriva il brimmi in una scritta, in un'incisione, era bruttissimo e poi veramente troppo tempo ci si impiegava per pulirlo. Quindi lo seleziono. Traferro del raft non so cosa sia ma so cosa è il raft ma non lo useremo. Era già selezionato, sovrapposizione del primo strato z era già selezionato, strati superiori del raft anche, scorriamo fino in fondo e dovremmo esserci, nel senso che non ci saranno tanti più parametri da selezionare oramai. Doppia estrusione non la guardiamo neanche. In modo da speciali vediamo se carica che cos'è ma non credo che ci interessi. L'unica sequenza di stampa da selezionare, maglia di riempimento da selezionare ma soprattutto c'è una cosa, spiralize, credo sia questo, che una volta si chiamava così, stampa del contorno esterno con movimento spiraliforme. Cioè praticamente fa, spiralizza l'oggetto e fa solo la superficie esterna. Corriamo ancora giù. Oggetti cavi, vedete qua, l'ho selezionato, l'ho selezionato perché volevo vedere cos'è e dice che rimuove tutto l'interno, diciamo tutto il riempimento e dà anche la possibilità di inserire dentro dei supporti. Con alcune stampe potrebbe essere, potrebbe farvi risparmiare tempo e materiale, immagino. I parametri da poter selezionare o deselezionare sono finiti. Una volta finito si chiude e automaticamente vengono caricati in cura nella vostra visualizzazione dei parametri. Per oggi è tutto, alla prossima! Grazie! Grazie! Grazie!